Noi suggeriamo al giovane candidato, anche se non ha la competenza, l'esperienza richiesta precedente perché si è appena laureato o appena uscito dal percorso di studi, di candidarsi lo stesso perché in quel momento potrebbe essere che sia l'unica persona che rispecchi la maggior parte dei requisiti perché quello che è l'annuncio che mette l'azienda è un profilo ideale. Quindi buttatevi anche se non avete le competenze richieste.